Ascolta, se uscivamo dal bosco ci becchavano un'altra volta, quindi... Sembra il filmato con Zambi, cosa è? No, oggi l'abbiamo già fatto. Ma noi sono la sola stessa. Sì, ricco. Ma l'abbiamo. è meglio di l'arbo bravo bravo e qua me l'hai toccato a te e si e il mezzo ti è toccato quella più brutta e sei dentro il dietro incastrato fare il dietro e poi vai per sforza il lele è scappato cazzo ha detto prima che resto dentro ora si dai catena andata catena andata catena andata grazie